La testata di partecipazione, bravo, bravo, complimenti. Allora, vorrei congelare appunto il concorrente, lei è stato bravissimo, merita l'uscita trionfabile. Buonasera. Grazie a voi tutti. Allora, io ora vi presento la mia rassegna di notizie sciocche. Oggi sono proprio molto scioccanti dalla regia Maurizio Costanzo, che si è messo a fare regista. Ah no, Danilo, scusate, Danilo Costanzo è il nome delle zigla, zigla. Orrori del fotoritocco. Nella locandina di Immaturi, il viaggio dell'attore Raul Bove spunta una mano in più che abbraccia Luisa Rainieri a causa di un fotoritocco sbagliato. Insomma, possiamo dire che Raul Bova è spuntata una terza mano. Vabbè, scusate, mica è il primo caso di un attore che ha più arti del normale. Pensate, Raul Bova c'ha la terza mano, Rocco Siffredi c'ha la terza gamba. Allora, la seconda foto che possiamo... Scrive Dio non esiste su Fb. Che vuol dire Fb? Ah, Fb, Facebook, Facebook. Allora, non è su Facebook. Dio non ha ancora un profilo su Facebook, questa è una cosa strana. Però, vabbè, va più di moda Twitter, quindi che sicuramente Dio... Comunque, ho sbagliato a leggere... Ah, no, scusate. Allora, Alexander Ahan, che ha scritto su Facebook, secondo lui, Dio non esiste, ora rischia cinque anni di reclusione. Il tutto si svolge a Giacarta, la città dove non ci sono più alberi. Perché sono Giacarta, quindi c'è, vabbè, faccio pure le battute, scusate. Vabbè, speriamo che con questo Alexander Ahan siano più clementi che con tutti i sacerdoti che li costringono alla castità. Detto questo, a proposito di sesso, Melissa Satta... Vabbè, è malista, è esatta, e ho detto bene, è esatta, quindi infatti... Ha dichiarato, faccio sesso sette, dieci volte a settimana. Ammazza, signorina, complimenti, veramente, e complimenti soprattutto al suo fidanzato. Come si chiama? Boateng? Eh, ora si spiega perché gli piace, gli piace il boa. Ma ho capito. Tanto Boateng è sfinito, vediamo nella foto dopo tutte queste peripezze sessuali e non gliela fa giocare, forse gli fanno la multa. Detto questo, passiamo a... A me mi fanno invece al massimo la multa perché metto la macchina in doppia fila. Ma cambiamo argomento, parliamo di musica. Vasco Rossi compie 60 anni, il vader del rock. Che ho detto? Scusate, vader. No, no, scusate, vader, anziché vader, perché ho detto vader, c'è una ragione, perché a me le sue canzoni mi fanno cagare, sono gusti, che volete? Allora, dunque, il vader del rock. Vasco Rossi comincia a chiedersi cosa vuole fare da grande. L'indizio più evidente di questa nuova possibile fase è nell'ormai celebre dichiarazione in cui ha espresso il desiderio di dimettersi da rock a star. Faccio una recessione, una riflessione. Fra Vasco Rossi che si dimette da rock a star è impossibile. Sarebbe come se io mi dimettessi da giornalista. Grazie. Un saluto a dopo la pubblicità. Tra poco. Ciao, ciao. Ciao.